Ciao a tutti, sono Antonella Falcioni, artista polietrica, dipingo su tantissimi supporti, ho grandi passioni, in questi video tutorial vi dimostrerò tecniche pittoriche, aperta alla visibilità di chiunque, sia di chi vuole imparare, da chi lo vuole fare di professione, da chi lo vuole fare per hobby, a chi soltanto ha curiosità di vedere perché è una passionata d'arte. Parlerò anche di arte, di mostre, di eventi, vi spiegherò i vari pennelli, i colori che utilizzo, vi porterò con me in alcune località dove vengo ispirata per i miei dipinti, che vedrete qui sopra, sempre impresso, il mio blog dove potete aggiornarvi e vi invito a iscrivervi nel mio canale per poter seguire i prossimi video. Vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.